Oggi abbiamo presentato un listino molto importante, il nostro listino 2015-2016, un listino composto da 28 titoli, un listino che vede quattro aree di prodotto ben delineate, il comparto per le prime e seconde, il comparto commedia, grandi autori e cinema internazionale. Quest'anno 01 ha chiuso la prima parte di stagione con una quota di mercato del 13,5% al terzo posto fra i distributori, un risultato molto importante, un risultato che pensiamo di poter mantenere, se non addirittura anche superare con un secondo semestre in cui avremo veramente tanti film, come sempre un prodotto molto variegato, pertanto un prodotto che potrà andare in tutte le direzioni, sia in tutte le direzioni di pubblico ma soprattutto verso tutte le tipologie di sale, e pertanto potremo essere presenti con continuità sia nelle grandi città che nel circuito multiplex. Quali sono i titoli che sulla carta pensate possano sorprendere di più il pubblico? Abbiamo un listino curioso, un listino in realtà in cui le possibili sorprese sono tante. Per non sbagliare e andare col sicuro cito Suburla di Sollima, da cui ci aspettiamo tantissimo. Penso che una sorpresa potrà arrivare dall'Asca di Cuppellini, per quanto riguarda il prodotto internazionale, ci aspettiamo tanto da Sicario di Denis Villeneuve che è stato presentato a Cannes in concorso. Finalmente potremo presentare il film di Gabriele Muccino, Padre e Figlie, Father and Daughters. E finalmente potremo anche far arrivare sugli schermi italiani il nuovo film di Peter Bordano, Vici tutto può cadere a Broadway. Questi sono titoli che hanno una loro specificità e pensiamo che per ogni singolo segmento possono garantire un successo e pertanto essere delle sorprese. Poi penso che il nostro film di Natale, il professor Cenerentolo, che oggi è stato introdotto da una divertentissima clip di Leonardo Pieraccioni, possa far tornare Leonardo ai suoi momenti migliori e pertanto raggiungere una quota di box office molto molto importante. Il mercato è positivo quest'anno e da quello che vediamo il secondo semestre si presenta più forte a tutti i livelli rispetto ai primi sei mesi del 2015. Una sua previsione? Dopo aver fatto pronostici molto molto ottimistici ed entusiastici, nel mese di maggio abbiamo iniziato un po' a preoccuparmi. Poi per fortuna a giugno ha rimesso le cose in chiaro. Avremo un mese di giugno molto importante, un mese di luglio altrettanto importante e pertanto chiuderemo i primi sette mesi in un modo forte e poi avremo un agosto veramente straordinario con Mission Impossible, con i Minions, con Ant-Man, della Marvel, poi arriverà Inside Out, insomma veramente tanti tanti titoli. In questo contesto noi come al solito faremo la nostra parte, faremo la nostra parte con un prodotto italiano, pertanto con il nuovo film di Marco Bellocchio, il 10 settembre, con Sicario, presentando una commedia come quella di Alessio Maria Federici con Enrico Brignano a fine settembre. Insomma ci saremo. Io continuo a essere profondamente ottimista e penso che il 2015 si chiuderà con dei numeri più anche importanti e aprirà la via a un 2016 che si presenta con la partenza primo gennaio del nuovo film di Checco Zalone, veramente monstro.